Un'altra partita in meno al traguardo. Il Montevarchi a sette giornate dalla fine del torneo conserva 12 punti di vantaggio sulla seconda piazza e vede sempre più vicina la Serie D. Al comunale di La Strassigna l'Aquila vince col minimo scarto e manda in visibilio gli oltre 300 tifosi giunti dal Valdarno, presenza da categorie ben superiori all'eccellenza. Prima del match c'è tempo per ammirare lo striscione dedicato ad uno storico supporter Marco Ciaperoni dagli amici per i suoi 40 anni e per salutare chi favorì a suo tempo nel 2011 la rinascita del calcio rosso-blu. Orfani di Essussi squalificato e con mannella in gran spolvero al rientro dall'inizio, gli uomini di Rigucci cercano di pungere subito. Daveri dopo sei minuti è fermato in dubbio fuori gioco ed è inutile il destro vincente. Replica la Lastregiana con il bomber di Tommaso, girata velenosa su assist di Guerrini e Coppi devia in corner. Al dodicesimo però ecco il gol partita, mannella in becca Lasceb che in diagonale fulmina Eletti. Un tiro ancora di Lasceb al diciottesimo si perde fuori bersaglio e da quel momento il tema del match è chiaro. Sterli tentativi dei padroni di casa e Montevarchi in pieno controllo anche nella ripresa che i fiorentini giocano senza di Tommaso bloccato da una contrattura. Solo nei primi minuti la Lastrigiana crea una mischia davanti a Coppi. A conti fatti l'Aquila non rischia nulla e in due occasioni non sfrutta il contropiede per il raddoppio. Al diciassettesimo mannella non finalizza l'azione Monaci, la Sheb. E al quarantatresimo Chiasserini calcia alto il suggerimento di Daveri. In fondo va bene così e a bordo campo la capolista si gode i cori e lo spettacolo del tifo rosso-blu.